Con il Forum Internazionale del Turismo, in programma a Baveno nelle giornate del 24 e 25 prossimi, i cantieri che insistono sulla A26 saranno rimossi. Non conviene esultare ancora. Si tratta infatti di una situazione del tutto provvisoria, dettata da ragioni di sicurezza per il forum che vedrà sulle rive del lago approdare gran parte del governo, a cominciare dalla Premier Meloni oltre a numerosi politici stranieri. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.